Waifu 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 Una parola che viene usata per indicare personaggi animati e non per cui si prova un sentimento o un'attrazione Le waifu wars hanno impazzato per anni sul web, continuando a distruggere e seminare caos nelle community online Ogni volta che una waifu saliva sul trono della best waifu impazzava una nuova guerra per la scelta di una nuova waifu, fino a che tutte le waifu sono finite all'inferno Ed è lì che la loro guerra continua tuttora D'altronde tutte le waifu finiscono all'inferno In questo mondo distrutto dal caos creato dalle waifu, ora le waifu stesse dovranno combattere per la loro supremazia e giocando in single player vi mostrerò quale waifu avrà il titolo di migliore waifu Best player Proviamo a rimanere in vita il più a lungo possibile come potete vedere non c'è waifu che riesca resistere alla potenza dei nostri colpi Il gioco è molto semplice in realtà nelle sue meccaniche niente più niente meno ogni waifu merita la morte vediamo vediamo fino a dove possiamo spingere la nostra sete di sangue waifu ha 13 uccisioni come potete vedere questo è un bagno di sangue sangue di waifu come possiamo sperare di vivere in un mondo controllato dal caos incontrollato da queste belve feroci il mondo ormai è stato distrutto a causa loro quindi loro meritano una punizione non c'è speranza per l'umanità gli umani stessi dovranno imparare a sopravvivere in queste lande desolate controllate dagli esseri più malvagi dell'universo le waifu il punto è che non riesco a capire come fanno a colpirmi attraverso i muri ma ehi cosa ci aspettiamo da un gioco del genere guarda da dove mi stanno colpendo tra l'altro ho appena scoperto che se tengo premuto control posso continuare a sparare all'infinito e i proiettili non calano nemmeno dove sono caduto e come ci sono arrivato qui che gioco caotico per forza guarda com'è fatto bene non puoi neanche spawnare che su dove come come sono morto quando è successo perché sono caduto attraverso le piattaforme riuscirò ad arrivare alle tre cifre io scommetto di no wow soldi ben spesi per questo gioco ho pure ricevuto una figurina per questo gioco il gioco come vuoi le